Amici, avete mai provato questa caramella? Di mamma l'hai mai provata? No, e sembra quasi slime blu, che schifo E al lampone, secondo me è aspra, perché c'è scritto tutto il solo Provala, ah prima io eh, quindi se è velonosa l'assaggio prima io Sì È aspra? Buona però Buonissima Vero? È buonissima